che delusione, che delusione, io non ho le parole, io non ho veramente le parole oggi andavi ad affrontare forse la squadra più semplice delle ultime partite che dovrai giocare in questo campionato perché le prossime sono veramente, veramente bruttissime perché andrai a giocare contro il Wolverhampton, squadra veramente in forma andrai a giocare contro il Burnout, contro il Chelsea e contro il Fulham oggi questa era per me la partita più semplice la partita che potevi portarti a casa ma soprattutto questa partita tu te la dovevi portare a casa perché il Newcastle oggi aveva perso con l'Arsenal e forse la sconfitta di oggi sarà l'ultima che il Newcastle farà in questa stagione oggi tu ti potevi portare terzo in classifica con un punto in più dal Newcastle ma soprattutto ti portavi di nuovo a quattro punti sopra il Liverpool con una partita in meno da giocare invece oggi cosa hai fatto? Oggi hai fatto schifo oggi hai fatto schifo, oggi hai fatto più schifo che con il Brighton oggi hai fatto più schifo che con il Brighton oggi hai fatto ribrezzo, oggi lo United non è sceso in campo oggi è sceso in campo il Manchester United dell'anno scorso oggi è sceso in campo una squadra orripilante una squadra che non aveva idee una squadra stanca perché parliamoci in maniera molto chiara questa squadra è stanca questa squadra non ha idee di gioco l'abbiamo visto nel secondo tempo contro il Brighton lo abbiamo visto quest'oggi nei 90 minuti contro il West M perché nei 90 minuti oggi abbiamo fatto ribrezzo ribrezzo nessuna idea le azioni vengono costruite dai singoli non c'è più quella costruzione di gioco che abbiamo visto post, soprattutto post mondiale cioè dove riuscivi a fare tante triangolazioni riuscivi ad uscire dalla pressione con eleganza perché lo United post mondiale era veramente molto molto elegante cinico ed elegante ultimamente lo United è diventato quello dell'anno scorso una squadra che gioca di contropiede una squadra che gioca con le giocate dei singoli che se i singoli non si accendono lo United si spegne completamente ed è inutile stare qui a parlare sempre delle stesse cose perché io questa cosa qui ve la dicevo mesi fa quando a me la gente mi diceva no una grande squadra deve competere su tutte le competizioni ma tu reputi il Manchester United una grande squadra rispondevo a questa frase la gente sì no non è così perché lo United non è una grande squadra in questo momento storico non lo è e si deve comportare da squadra media media grande se vogliamo così chiamarla dove bisogna fare delle scelte abbandonare delle competizioni non si è fatta questa scelta settimane fa, mesi fa ci siamo ritrovati adesso con la bombola d'ossiccio in bocca e dei giocatori ragazzi completamente assenti dal gioco perché anche oggi Eriksen è completamente assente io non credo che sia solo una condizione a livello fisico ma è soprattutto una condizione più che a livello fisico a livello di infortunio perché è rientrato a poco dall'infortunio non è solo quello per me è anche proprio una condizione di stanchezza come Casimiro Casimiro nelle ultime partite ragazzi non ha più fiato non ha avuto più ricambio Bruno Fernandes comincia ad avere i mattoni al posto dei polpacci comincia a non farcela più sta tirando avanti un qualcosa che non riesce perché anche lui è umano si è giocato più di 45 partite non è una cosa possibile Rashford è rientrato da un infortunio grave ma anche lui tante partite sopra le spalle la squadra è stanca non ha più fiato io ve lo dico sinceramente a tifoso che ama questo club perché lo sapete in Italia penso di essere quello più tifoso di questa squadra poi non so all'estero però in Italia sicuramente sono il tifoso che ama di più questa squadra ve lo dico con il cuore in mano io non sono più convinto che il Manchester United possa qualificarsi per la prossima Champions League questa cosa ve la dissi un po' anche con il Pride ve l'ho accennata è vero abbiamo ancora tutto nelle nostre mani perché abbiamo un punto in più abbiamo una partita in meno da giocare bisogna sempre avere fiducia del progetto dell'allenatore anche perché Tenang quest'anno ci ha dimostrato un grande carattere in determinate vicende riesce sempre a rialzarsi nei momenti bui non era facile rialzarsi sul 7-0 contro Liverpool non era facile rialzarsi sul 6-3 contro il City non era facile rialzarsi dopo aver perso con il Sevilla non era facile rialzarsi in determinate situazioni che sono successe quest'anno quindi Tenang ci ha dimostrato quella un po' mentalità di ripresa però questa squadra credo proprio che abbia finito tutte le energie è quello che a me mi fa pensare che non riuscirai non riuscirai perché Newcastle sta giocando questo campionato vuoi non vuoi senza pressioni perché non ha il macigno del nome Newcastle non è quella squadra che se non si qualifica in Champions parlano del Newcastle per settimane ah non si è qualificato il Newcastle incredibile non la fanno sta roba per il Newcastle se Newcastle si qualifica per l'Europa League non succede niente va bene anzi va più che bene per una squadra che fino ad un anno e mezzo fa rischiava la retrocessione invece lo United vive con la pressione continua ogni weekend soprattutto adesso che è il Liverpool che dietro per me non si fermerà più il Liverpool ragazzi non si fermerà più sarà una macchina mortale che si masticherà tutte le squadre che ha davanti perché dietro c'è un progetto c'è un allenatore che allena quella squadra da anni ci sono i giocatori che vivono di pressioni gente come Salah gente come Alexander-Arnold come Robertson come Van Dijk come Allison sono giocatori che vivono costantemente con la pressione amano vivere in determinati ambienti lo United l'abbiamo visto è una squadra che non vive bene fuori casa è una squadra che soffre negli ambienti ostili è una squadra che soffre negli ambienti non conosciuti e questa è una mentalità che manca per me principalmente ai giocatori poi qui si possono dare anche le colpe a Tenag io sono il primo uscirà un video quando concluderà questa stagione dove butteremo le nostre somme dove io butterò le somme su questa squadra ma oggi ragazzi Tenag per me poteva far ben poco perché con un portiere che fa una cappella un portiere che raga Deke ha fatto un errore che non è neanche da serie B cioè il gol che abbiamo preso è qualcosa di veramente imbarazzante non succede manco in Lega Pro che un portiere prenda un gol del genere poi prendi in palo prendi una traversa sbagli davanti alla porta tiri fuori tiri davanti al portiere la butti addosso al portiere e dopo voi non vuoi lì c'è ragazzi lì si può dare la colpa a Tenag per altre istituzioni ma oggi è sceso in campo con la formazione per me più giusta perché con Vecors avevamo iniziato bene e poi dopo l'errore di Deke la squadra si è ritirata ci ha avuto paura ed è successo e poi il patratracca alla fine perché a squadra non è riuscito a fare niente ma poi Tenag i cambi l'ha fatti ma i cambi non fanno mai la differenza l'abbiamo visto quest'anno anche se Tenag è l'allenatore che in Europa ha azzeccato più cambi bisogna precisarla questa cosa ma la squadra ha i suoi limiti ha problemi ovviamente ha i suoi difetti Tenag quest'anno ne ha dimostrati tanti è una delusione quello che sto vedendo oggi quello che abbiamo visto nelle ultime due settimane tre settimane è una completa delusione perché nelle ultime partite abbiamo pareggiato col Tottenham perso col Brydon perso col West Ham e vinto con l'Aston Villa le ultime quattro partite in Premier League sono queste uno scebbio uno scebbio ripeto lo United quest'anno ci ha dato dimostrazione di essere una squadra che può ripartire anche in situazioni bruttissime ma adesso vivi con attenzione dietro che è disarmante ragazzi è disarmante mai mi sarei aspettato di trovarmi in questa situazione ve lo dico con il cuore in mano mai me lo sarei aspettato perché a un certo momento ho pensato vabbè ci siamo qualificati e credo che l'abbiano pensato anche i giocatori spero che adesso riaccendano il cervello perché quello manca stanno giocando alcuni con una sufficienza disarmante che non va giustificata solo il discorso delle assenze di Varane e Lisandro del fatto della staghezza alcuni stanno a giocare proprio con una superficialità saggio Marzial lo stesso Bruno in determinate situazioni sta giocando con una superficialità che è disarmante è disarmante io ragazzi vi ripeto quest'anno ve l'avevo ripromesso più e più volte sto cercando di evitare rompe sbatte urlare perché è il primo anno e vorrei concludere questo percorso questa stagione con estrema calma ma oggi non mi viene neanche la forza di urlare sbatte oggi c'è solo tanta tanta delusione per una squadra che doveva scendere in campo mostrare al mondo intero che si sbagliava che questa squadra non va ad imbottigliare la Champions League invece oggi cosa fai oggi perdi dei punti fondamentali oggi sei ad un passo per imbottigliare la Champions League questo è il calcio questo è lo sport fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate ovviamente non è tenag get out non esiste perché lo stesso Arteta l'anno scorso ha fatto un percorso simile a questo e i progetti vanno aspettati e soprattutto bisogna dargli fiducia non ho altro a dire fatemi sapere cosa ne pensate delusione delusione dai delusione ciao a tutti ragazzi